L'11 febbraio del 1982 nasce a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza Cristian Maggio, vice campione d'Europa con la nazionale italiana ad Euro 2012. Uno dei migliori esterni di fascia destra in circolazione, il prodotto del settore giovanile del Vicenza inizia la sua carriera in azzurro con l'Under 18, poi con l'Under 20, con la quale partecipa al torneo di Tolone del 2002, dove l'Italia si classifica al secondo posto dietro al Brasile. Dopo aver militato nelle file di Fiorentina, Treviso e Sampdoria, ottiene la sua definitiva consacrazione nel Napoli, suo attuale club di appartenenza. All'ombra del Vesuvio Maggio riceve infatti anche le prime convocazioni del CT azzurro Lippi, prima di debutare poi il 19 novembre del 2008 in occasione dell'amichevole contro la Grecia. Inserito nella lista dei convocati per il Mondiale 2010 in Sudafrica, fa il suo esordio nella massima competizione internazionale nell'ultima e sfortunata gara del girone contro la Slovacchia. Nel giro della nazionale, poi anche sotto la gestione di Cesare Prandelli, prende parte alla cavalcata azzurra agli europei 2012 terminata al secondo posto e successivamente alla Confederations Cup del 2013, dove l'Italia sale sul podio dietro soltanto ai due volte campioni d'Europa della Spagna e ai padroni di casa del Brasile. Grazie a tutti.